Radio Italia C, la radio che si vede. Anche quest'anno Castiglion Fiorentino diventa per una notte una patria importante dello sport nazionale e non solo, questa sera Arrigo Sacchi sarà presente proprio qui all'interno del Teatro Mario Spina. Ecco, un importante traguardo ogni anno anche per chi gestisce l'assessorato allo sport come lei. Sì, è un nostro vanto questo gran galà dello sport, cerchiamo di farlo diventare sempre più importante invitando personalità del mondo sportivo sempre di alto livello, non solo Arrigo Sacchi ma c'è Matteo Tosato un professionista del ciclismo, Leonard Bundu, insomma una serie di personaggi senza nulla tralasciare agli altri di alto livello. Che questa amministrazione è propensa allo sport oramai lo abbiamo praticamente dichiarato apertamente cerchiamo di stare vicino allo sport perché con lo sport si può ottenere risultati anche a livello di amministrazione perché lo sport attira personaggi, attira persone a Castiglione Fiorentino, coinvolge aziende locali e lo sport fa associazionismo, gruppo e insegna un po' la vita quotidiana. Quello che io punto è maggiormente che i giovani di oggi giorno devono riscoprire l'amore per lo sport. Sindaco, accompagnato anche Arrigo Sacchi qui al Teatro Mario Spina, questo gran galà dello sport sta diventando un appuntamento sempre più sentito ed è stato veramente un bellissimo esempio quest'anno anche la possibilità di far fare da protagonista i tanti giovani che hanno poi uno su tanti e ha realizzato proprio il premio. Il lavoro di squadra secondo me paga sempre. Qui c'è stato un lavoro fatto da più attori, da più protagonisti, è stato apprezzato anche da coloro che sono stati individuati per l'assegnazione di questi premi. I premi e i nomi dei premiati si commentano da soli, io sono soddisfatto, anche orgoglioso che Castiglione Fiorentino venga accettata anche come meta di personalità che fanno bene e danno un messaggio positivo. Poi questo non è neanche un qualcosa di originale se vogliamo dare un premio a un personaggio dello sport ma unire a tutto questo anche la solidarietà perché questa serata è a scopo benefico credo che non sia una cosa di poco conto. Siamo insieme a due dei protagonisti, anche coloro che hanno reso possibile questo gran gala dello sport 2017 qui a Castiglione Fiorentino. Grazie a Estra che da sempre fa dello sport uno dei cavalli di battaglia, delle tematiche più a cuore di questa realtà. Anche questa sera siete presenti, avete creduto davvero molto in questo evento. Finalmente ci siamo arrivati, il risultato di un faticoso e bellissimo lavoro che abbiamo messo in campo insieme al comune di Castiglione Fiorentino, al suo sindaco che ha creduto molto in questo progetto e ha voluto corroborarlo assieme anche all'amico Gabriele Veneri unendo imprese orafe, scuola, una grande azienda che non si è voluta limitare a sponsorizzare ma ha voluto creare le condizioni della realizzazione di un buon progetto. Quindi ci sono tutti gli ingredienti, dallo sport alle ragioni economiche del nostro territorio che stanno vicini anche a una buona iniziativa benefica che condividiamo nella maniera più assoluta. Nel concreto i premi di questa serata sono stati realizzati prima da un disegno dei ragazzi del Margaritone di Arezzo e poi materialmente la sua azienda ha provveduto a realizzarli. Com'è far parte di questo progetto da protagonisti? È stata una bellissima esperienza, soprattutto è stato bello vedere i ragazzi della scuola che sono tutti adoperati per dare il massimo e per poter emergere. Poi alla fine c'è stata una selezione molto difficile perché i premi erano tutti belli da realizzare e alla fine la commissione ha scelto quello che vedrete questa sera. È stata una bellissima esperienza e ringrazio Estra, ringrazio il Comune che ha scelto noi come azienda, come partner e sono contento di aver dato la possibilità anche ai ragazzi della scuola di poter venire in azienda e vedere come si realizzano poi in concreto le opere. In realtà quindi è quasi stato un progetto di alternanza scuola-lavoro alla fine? Sì, diciamo a tutti gli effetti. Credo che sia utile unire le nostre forze per cercare di fare qualcosa di buono, qualcosa che unisca un po' tutte le realtà. E soprattutto che questi giovani abbiano un po' di futuro e di speranza perché comunque di futuro e di speranza ce n'è ancora tanto, basta crederci. La sua presenza qua è legata ovviamente a questo premio che nella sua semplicità però vuole essere anche una sintesi dell'intreccio del mondo dello sport con quello giovanile. C'è stato anche comunque un bel progetto per realizzare i propri premi con i giovani ragazzi. Ecco, è importante per lei partecipare ad iniziative come questa che comunque significano che lo sport poi è davvero calato nella vita reale. Beh, lo sport è il calcio, è la metafora della vita e sarebbe importante che i giovani li interpretassero in un modo corretto. Purtroppo gli esempi non sono sempre così ma dobbiamo crescere, migliorare, rinnovarci possibilmente, rischiare, cambiare un paese che invece vorrebbe fermare tutto. Io sono onorato più che altro per il premio che mi danno. Bicciani è stato un grande personaggio, un uomo che ha fatto onore alla propria attività, ha dato idee, era un innovatore in un paese conservatore e quindi sono onorato di avere questo premio da una persona che ho sempre stimato, da un tecnico che ho sempre stimato. A tutti i ragazzi presenti in sala cosa direbbe, anche a livello umano, sia calcistico? Ma che il calcio è un sentiero, lo sport in generale, è un sentiero giusto per la crescita della persona. Questa crescita deve riguardare però uno stile di comportamento è un'etica, un'etica del lavoro, un'etica del collettivo. Abituandosi a porsi degli obiettivi e fare di tutto per arrivarci e non pensare ai soldi e al successo, quelle sono una conseguenza, non possono essere un obiettivo. La serata del Gran Galà dello Sport 2017 ha uno scopo importante che è quello appunto di andare a supportare la confraternita di misericordia qui di Castiglione Fiorentino che è un esempio importante di vicinanza alla popolazione di questo paese. Sì certo, la misericordia presenta Castiglione Fiorentino dal 1572 quindi è un'istituzione importante e in questo caso ci ha fatto molto piacere essere presenti è il secondo anno che il Comune organizza questo Gran Galà e il ricavato è a fondo benefico proprio per la nostra confraternita quindi ringraziamo infinitamente tutta l'amministrazione e tutti quanti hanno contribuito alla riuscita di questa serata. Una giovanissima promessa, un giovanissimo talento del nostro territorio, del territorio aretino Matilde Mariani sei la più giovane questa sera a 14 anni ad aver ricevuto il premio del Gran Galà dello Sport di Castiglione Fiorentino ecco raccontaci un po' la tua esperienza sportiva. Io ho iniziato a giocare a sei anni circa e nessuno della mia famiglia giocava ma diciamo che vedendo giocare un amico di mio babbo mi è piaciuto e da lì ho iniziato a provare e mi è presa proprio la voglia che volevo sempre giocare e quindi è stata una passione da subito. Ricordiamo insomma il tuo sport e il tennis quali sono stati i tuoi ultimi obiettivi? Allora a inizio anno ho giocato i campionati italiani con la Toscana e lì diciamo che sono stati dei grandissimi risultati perché sono riuscita a vincere con due avversari con cui non avevo mai vinto tra cui una è la campionessa d'Italia. Ecco quindi ricevere questa sera questo premio è sicuramente un incoraggiamento per la tua giovanissima carriera e quindi noi ti facciamo l'in bocca al lupo e insomma dici tu quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Ora adesso settimana prossima andrò a Napoli a giocare un BNL in cui il vincitore andrò a giocare le prequalificazioni a Roma e la settimana seguente andrò a giocare un ITF in Tunisia. Ed ecco quindi un talento che diventa anche proprio extra nazionale veramente in bocca al lupo a Matilde grazie per essere stata con noi se vuoi salutare Radio Italia 5 e tutti i nostri ascoltatori. Sì ringrazio anche tutti i miei genitori che comunque fanno anche tanti sacrifici il mio circolo e tutti i miei maestri che mi seguono tutti i giorni. Alla gran gala dello sport 2017 anche il ciclismo ecco Tosatto essere premiato anche indirettamente sul palco insieme avete dialogato con Bennati diciamo un ritrovarsi qua a Castiglion Fiorentino però guardando a un passato nazionale e internazionale insieme. Sì è stato bello ritrovarsi perché anche Daniele è stato mio compagno di squadra gli ultimi anni e sinceramente da quest'inverno non avevamo potuto vederci per un motivo o per l'altro è stato per me un grandissimo piacere soprattutto prendere un premio importante in memoria di Alfredo Martini riempie di gioia e va anche giusto dire ricordare come un personaggio come Alfredo mi fa solo un enorme piacere. Ecco il lavoro di squadra che avete fatto in questi anni è emerso in questa discussione sul palco tornare anche quest'anno per la seconda edizione del Gran Galà a parti invertite come è stato per te? No è sempre come ho detto sul palco è sempre emozionante quando si parla di Alfredo Martini perché per noi era una persona è stata una persona e lo è tuttora comunque ricordandolo è stata una persona veramente speciale e come ha detto Matteo come un padre no? che con le sue storie con i suoi consigli ci ha insegnato veramente tanto. Tanti saluti a tutti i telespettatori e grazie, seguitici. Ciao a tutti, seguitici.